Assessore Loffredo, lucida artista sarà anche lucida e la solidarietà con la mostra Bella Sempre? Assolutamente, è una bellissima iniziativa, quando ci eravamo visti con i vertici del CNA pensavamo a quale potesse essere un'iniziativa da fare e credo che questa iniziativa benefica con l'acquisto, l'incasto devoluto in beneficenza per comprare un macchinario a ruggi, sia una scelta intelligente attraverso l'artigianato, attraverso la ceramica e attraverso tante associazioni che hanno voluto dare il loro apporto credo che questo sia il compito, la cosa più bella per noi amministratori stare vicino a associazioni come il CNA, in silenzio, fare la nostra parte e ricordarci che ci sono persone meno fortunate, che può toccare sempre a uno di noi quindi sostenere queste iniziative e questa iniziativa darà una cosa importante permetterà che nel periodo delle luci d'artista, le luci possano splendere la luce della speranza che può salvare molte vite quindi grazie ancora al CNA grazie a tutti